Destro-sinistro Tantantantant E'iringa REAL Invol Nicole ti prego Signore Gesu Cristo Saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaav Ma tutti benvenuti Qui a qui say Yao diffomater che vi parlo TF13 Per gli amici Oggi 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 E' giovedì Ok Ma stanno giovedì Abviciniamo qua il microfono essendo giovedì ci sono i premi del fu champion e delle division rivals io ho fatto oro 1 intanto c'è il buon disabile di sottofondo che non parla perché per non è giusto quindi io ho fatto oro 1 ho fatto oro 1 come ho fatto oro 1 che non è la prima la prima volta in questo fifa che faccio oro 1 prima li facevo tipo che sto gioco fa cagare comunque abbiamo fatto oro 1 solo ed esclusivamente usando le icone in prestito perciò abbiamo fatto oro 1 insultatemi nei commenti perché è giusto che sia giusto che sia così 50.000 allora questi 50.000 crediti io me li prenderei tutta la vita ma dato che stiamo facendo un pacco opening giusto mi prendo questi pacchetto europea un max che non ci darà un cazzo un pacchetto giocatori rari che non ci darà un cazzo un pacchetto mega che non ci darà una beata minchia quindi andiamo a riscattare i premi del fu champion non vi ho fatto vedere la scuola della settimana sono un deficiente va bene non c'è nessuno di interessante oro 1 50.000 crediti due pacchetti giocatori europea e due pic va bene esce e riordino agli oggetti più tardi perché vi voglio fare vedere la scuola della settimana quindi scuola della settimana con questi sciaccola tue non c'è nessuno che mi serve ok ma noi troveremo donnarumma quello falso oppure troveremo questo tizio oppure troveremo questo tizio possiamo andare a riscattare i pics quello di destra quello di sinistra intanto passa un'ambulanza della madonna quello di destra quello di sinistra allora io non voglio guardare non voglio guardare non voglio guardare chi è ma di nuovo lui e allora andiamo a vedere i pacchetti giusto iniziamo con questo che fa cagare non ci sarà mai qualcosa di interessante infatti non è workout ma nemmeno ci speravo più di tante bandiera almeno no allora il pacchetto mega pacchetto mega ovviamente non è workout ci mancherebbe altro bandiera macco per l'anticamera del cervello attaccato ignagi williams allora questo qua spacciava cocaina in colombia però il cileno in colombia ok questo sta sempre zitto allora abbiamo tre pacchetti dal valore totale di centocinquantamila crediti giusto secondo te chi minchia ci succede un cazzo perfetto andiamo con il primo pacco che non è workout mi fa piacere almeno un if da scartare gentilmente uh bandiera uh bandiera anche croato atteta attata attata oh oh mario nemanzuki ma questo che bandiera è di dove sei che cosa sei identificati chi sei noto come nessuno hello darkness my old friend I've come to talk with you again destra o sinistra sinistra tan 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 e walk out e walk out ti prego signore gesù cristo ti prego un portiere di merda mi dai ora brasiliano cdc casemiro porco ma perchè la vita uh doppio walk out e la madonna che esagerazione quindi un super mega pacchetto questo mi è piaciuto molto mi è molto piaciuto e quindi ora non potrà mai fare l'unplane due walk out di fila potrà mai fare l'unplane due walk out di fila walk out ma ti ti prego oddio dell'universo ti prego dammi qualcuno italiano vabbacculo immobile ti deve scoppiare la casa perchè non ci può essere un bappè dietro ti prego per favore per favore ciao malcolm ma porco quindi ragazzi miei se vi è piaciuto questo video non so nemmeno quanto è durato sinceramente spero sia durato almeno 10 minuti ma non credo comunque se vi è piaciuto questo video lasciate un like se volete la mia fortuna non lo lasciate perchè nessuno vuole la mia fortuna perchè non ne ho basicamente quindi il buon disabile fa solo rumori molesti quindi ci vediamo ad un prossimo video ora ne registrerò un altro non so cosa però comunque lo registrerò questo lo vedrete probabilmente questa sera se riesco questa sera domani quindi ragazzi miei se vi è piaciuto mettete like condividete il video iscrivetevi al canale in massa dovete essere una nassa che parte tipo gli immigrati dalla Libia e che c'è? per te gli immigrati dalla Libia non possono essere tutti immigrati dalla Libia avere un telefono e iscriversi al mio canale sei iscritto al tuo canale sei appena iscritto a Abdullah alham no? sembra alham esattamente quindi dal vostro fifth mother ci è per per gli amici è tutto ci vediamo ad un prossimo video e a sta vista di Sambile saluta ciao un bel saluto di Sambile un bel saluto